Lunedì 17 luglio 2023, sono le 7.20, torna puntualissima l'informazione di Rossini TV con la rassegna stampa quotidiana Buongiorno Rossini. Partiamo questa mattina dando un'occhiata al sito dell'Aeronautica Militare e al meteo con le temperature torride che si proporranno nell'arco della giornata, vedete il diagramma, sono già 27 gradi in questo momento e sono soltanto le 7.20 del mattino, la curva si alza fino ai 34 gradi che dovremmo percepire intorno alle ore 13-14, queste poi sono le temperature di base e poi leggendo anche gli articoli sul giornale, successivamente vedremo che la temperatura percepita dovrebbe addirittura salire a 38 gradi, quindi una colonnina del mercurio impazzita anche per oggi, si arriverà con il fenomeno Caronte almeno fino a mercoledì e poi forse anche per il prossimo fine settimana. E intanto diamo un'occhiata grazie al nostro regista Andrea Marcelli e alla webcam quotidiana, questa mattina come vedete dalla statua di Cesare Augusto siamo in piena smobilitazione della Fano dei Cesari, siamo a Fano, siamo al Pincio, sono in corso i lavori di pulitura dopo le feste, la corsa delle bighe di ieri e la sfilata, ne parleremo durante la nostra rassegna stampa. Faccio gli auguri anche a tutte le marcelline in ascolto in quanto oggi si festeggia Santa Marcellina Vergine, sorella di Sant'Ambrogio, quindi milanese anche e lei, pertanto a tutte le marcelle in ascolto il nostro augurio di buon onomastico. Partiamo dalla prima pagina del Corriere Adriatico, al mare sosta da incubo, parcheggi selvaggi, auto in doppia, tripla fila, ambulanze che non riescono a raggiungere i posti dove sono state chiamate, caos e parcheggi sia a Sottomonte che sulla spiaggia di Levante. Gli albergatori costretti a chiamare i vigili urbani per rimuovere auto e scooter in sosta selvaggia. Assalto alle spiagge per sfuggire a Caronte, questa è la foto copertina, caldo record da oggi allerta rossa, come dicevamo prima, e poi nei tre box sotto la fotografia. Perde il salvagente e rischia di annegare, salvato da un giovane, si tratta di un turista sessantenne. L'osservatorio Valerio perde lo storico direttore Brunello Bedosti che si è spento all'età di 91 anni e poi il piano dei rifiuti rivisto ma non si allunga l'uso delle discariche. L'acquedotto senza pace lo abbiamo segnalato anche noi di Rossini TV ieri con vari post su Facebook e sui social, finalmente poi dalla Marche Multimi Servizi si è arrivata una soluzione del problema, intorno alle 12 è stato ripristinato l'acquedotto che aveva avuto una nuova rottura notturna nella serata di sabato. Lasciamo momentaneamente il Corriere Adriatico, andiamo sull'edizione light del resto del Carlino, come vedete il resto del Carlino Marche, sono tre le notizie dedicate a Pesaro in apertura, anche qui sosta selvaggia lungo la statale 16, prime multe e proteste. L'incontro di ieri durante l'Ulisses Fest con l'ex sindaco di New York, De Blasio, il quale parla della ferrovia sul mare da riconvertire, la cosiddetta Green Line e poi appunto il racconto della Fano dei Ceseri dove vince il Delfino contro la Volpe nella corsa delle Bighe. Veniamo all'interno del resto del Carlino, allontaniamo il nostro cellulare, Ricci e De Blasio progetto in comune, spostate la ferrovia come a New York. Come vedete nella fotografia il nostro sindaco che chiacchiera insieme sul palco della piazza, insieme all'ex sindaco di New York, Bill De Blasio, un'ora sul palco per parlare di ambiente ed ecologia, l'argomento principale il polmone verde che dovrebbe scorrere nel centro di Pesaro al posto dei binari fino a Fano. Matteo Ricci ha parlato del suo progetto, l'occasione è stata quella della conferenza Viaggio a New York all'interno dell'Ulisses Fest in Piazza del Popolo. Nei prossimi anni è prevista la deviazione della ferrovia di Pesaro che passerebbe accanto all'autostrada permettendo quindi vari punti di scarico per le merci nelle zone industriali. Ma cos'è la green line? Viene chiesto appunto dall'autore dell'articolo Alessio Zaffini. La linea ferroviaria in direzione Fano, quando verranno eseguiti tutti i lavori necessari alla deviazione, sarà trasformata in una nuova bicipolitana o zona pedonalma. È un progetto che conosciamo da diversi tempi. Ricordiamo il viaggio di Ricci Vimini a raccogliere la stella di Pavarotti a Los Angeles, la sosta a New York dove il nostro sindaco è rimasto appunto colpito dalla loro high line che diventerebbe green line qui nella nostra città. Si risparvienebbero ben nove minuti di viaggio in treno e questo non è poco. Anche per le infrastrutture il ministero ha dato l'ok, quindi le risorse sarebbero disponibili. Bisogna iniziare soltanto la progettazione. Ed è arrivata naturalmente ieri la benedizione di Bill de Blasio, il quale ha commentato positivamente il progetto green line. Valorizzarla come strada per tutti che permette di muoversi tra le varie zone della città senza l'utilizzo delle macchine, bensì camminando e godendo del panorama, a New York è stata una mossa vincente. Penso che a Pesaro, prossimo anno capitale italiana della cultura, una struttura del genere sia più che necessaria funzionale e emozionante. Ben fatto. Quindi abbiamo avuto l'imprimatur e la benedizione dell'ex sindaco della Big Apple della Grande Mela, Bill de Blasio, a questo progetto della green line. Una triste notizia è arrivata ieri anche, addio a Suorclelia, maestra che ha educato generazioni di pesaresi, lo posso anche testimoniare io personalmente perché ho frequentato proprio da bambino l'istituto delle piccole ancelle del Sacro Cuole di via Mendola. Suorclelia non era la mia maestra ma ho potuto apprezzarne la professionalità ma soprattutto la grande umanità anche verso coloro che ovviamente non erano i suoi alunni ma ci conosceva tutti e ci chiamava per nome. Se n'è andata purtroppo un grande monumento viene definita nell'articolo del resto del Carlino per alcune generazioni di pesaresi. Per tantissimi è stata la maestra, dopodiché una volta terminato il suo ministero da insegnante è diventata contabile tesoriera dell'istituto. Però per ragioni di età è stata trasferita nel centro delle piccole ancelle del Sacro Cuore ad Arezzo dove si è spenta all'età di 99 anni. La ricordiamo in questa fotografia. Verrà celebrato il funerale tumulata a Città di Castello ma Pesaro la ricorderà con una messa nella chiesa di Cristo Re, la parrocchia che ospita appunto geograficamente l'istituto delle piccole ancelle del Sacro Cuore. C'è la testimonianza raccolta di Andrea Biancani, un alunno di Suor Clelia, una persona eccezionale per migliaia di pesaresi. Per decenni ha diretto con energia, umanità e passione le sue classi. In ogni suo alunno è rimasta e rimarrà sempre nel cuore e io sono stato tra i più fortunati, dice appunto Andrea Biancani. Sottomonte Autolandia, sosta sempre più selvaggia, bagnanti a zigzag sulla strada statale Sevici. Allora il Carlino si concentra su quanto è avvenuto ieri sottomonte, poi andremo a vedere sul Corriere Adriatino invece quanto è successo nella zona della spiaggia di Levante. Si fa presto a dire andate sulla spiaggia a Sottomonte, un problema è arrivarci. Ieri tutto esaurito dalla ex crista a Fosso Segliore dove si alternano bagnini e spiaggia libera. Migliaia di auto parcheggiate ai lati della statale, quindi non c'era più possibilità per gli automobilisti di avere spazio a destra per non incombrare la carreggiata. Così il traffico seguiva un percorso centrale per evitare di urtare le vetture parcheggiate o travolgere i tantissimi pedoni che cercavano di attraversare la strada. A metà mattina sono stati chiamati anche i vigili urbani per far rimuovere delle vetture che rappresentavano un pericolo per l'intera circolazione. Tante multe è un problema che si ripropone ad ogni stagione estiva e sembra non esserci soluzione definitiva, come vedete anche dalla fotografia. Addio a Bedosti, pozzo di dati e di scienza, ma leggeremo poi successivamente l'articolo del Corriere Adriatico. E poi una notizia molto carina, scocca l'amore al Marconi, sposi uniti in matrimonio dall'ex preside. Lo abbiamo già letto sui social, ce ne siamo anche occupati noi nella redazione di Rossini TV. L'happy end del professore di fisica Mauro Bagiamonte e della collega Laura Galli. Festa a Villa Caprile, un amore sbocciato a scuola quattro anni e mezzo fa, precisamente al Marconi, dove entrambi lavorano. Lui è il vicepreside, lei è la professoressa di scienze naturali, sembra una storia degli anni 70, nei film di Alvaro Vitali e Lino Banfi. Sabato scorso Mauro Bagiamonte, 49 anni, e Laura Galli, 39, hanno voluto che a sposarli fosse nelle vesti di ufficiale di Stato civile Riccardo Rossini, dirigente scolastico e presidente del Marconi, al tempo del loro idilio, perché Rossini adesso è preside della scuola di Villa Caprile, ovvero la sede dell'istituto agrario Cecchi. E' la prima volta, dice Rossini, che sposo qualcuno, ma è anche la prima volta che sposo due docenti che, essendosi conosciuti a scuola, hanno voluto coronare questo passo importante ancora in una scuola. Trovo tutto questo, meraviglioso auguri. Ringraziamo anche coloro che sono connessi sulla nostra pagina Facebook, ai tanti commenti che stanno arrivando. Ne leggo uno, quella di Ornella Simoncini, pericolo anche per gli autisti, le strade sempre più strette e Ornella probabilmente, anzi sicuramente, si riferisce al caos, circolazione sotto monte. Ringraziamo anche tutti coloro che ci stanno augurando la buona giornata. Fano dei Cesari, trionfa la biga del Delfino, la spuntata sulla Volpe, questo l'esito della corsa delle bighe, fra i quattro quartieri che hanno partecipato, ovvero Volpe, Delfino, Lupo e Cinghiale. Ma leggeremo poi, appunto, come dicevo, l'articolo del Corriere Adriatico. Intanto affano consuma il PD, l'esito del nuovo segretario del PD, si tratta di Renato Claudio Milardi. Ieri, appunto, l'Assemblea ha eletto l'ex vicepresidente del Consiglio regionale, con 27 voti a favore e 9 astenuti, quelli di futuro democratico. La segreteria Milardi si dovrà concentrare sulla ricostruzione del partito e appoggiare, appunto, anche Fanesi che aspira a candidarsi a sindaco e partecipare alle primarie del centro-sinistra. Oggi Consiglio Comunale a Fano, come vedete, imballo la variante per l'edificio dei Frati Trappisti, nelle colline di Montegiove Prelato. Già c'è chi si schiererà contro la cementificazione, Movimento 5 Stelle, Bene Comune, Ribella e Partito Socialista, che invitano i consiglieri a non votare la variante prevista. Lasciamo il resto del Carlino, ci tuffiamo nel Corriere Adriatico. Partiamo, appunto, da Caronte, mai così caldo, in 30 anni, oggi allerta rossa. Da oggi le principali città della nostra regione si troveranno contrassegnate dal bollino rosso, livello massimo di guardia che fa scattare l'allerta nei servizi. Una condizione meteo destinata a durare almeno fino a mercoledì, l'avevo detto prima, ma forse non è detto che il colpo di coda di Caronte non si allunghi anche nel fine settimana. Il dato aggiornato parla di un aumento di 4 gradi centigrati rispetto alla media, questo per quanto riguarda giugno. Una media che era stata calcolata nell'arco temporale tra il 1991 e il 2020. Oggi l'allerta rossa per ondata di calore ricoprirà tutte le principali città del Marchigiane, tranne San Benedetto. Vi voglio far vedere anche il bollettino nel grafico, come vedete le temperature, Ancona 32, qui a Pesaro 32 prevista, anche se invece il grafico mi sembra dell'Aeronautica Militare ci portava 34, ma la temperatura percepita, come vedete, Ascoli Piceno toccherà i 40, mentre Pesaro arriverà a 38. al mare sosta in overbooking, anche l'ambulanza non passa per le troppe bici abbassate. Questa volta siamo invece nella zona di Ponente, vi invito a guardare le fotografie, autoscooter quelle sotto monte, altre parcheggiate al New Jersey che sono stati posti perché altrimenti gli autobus non riuscivano a girare nel tratto terminale della zona di Levante. È stato ancora caos parcheggi, l'ambulanza che doveva raggiungere la zona di Sottomonte, come capita spesso in bocca alla pista ciclabile, ieri non ce l'ha fatta a causa delle troppe biciclette dei bagnanti ammassate. E non soltanto c'erano le biciclette, c'erano scooter ovunque, sui marciapiedi, di fronte ai passi carrabili degli hotel in doppia fila, un problema che si rimpalla da un hotel all'altro dell'ultimo tratto di Levante. E ieri il gestore del Majestic si è trovato costretto ad allertare il centralino dei vigili per auto e scooter parcheggiati in un vialetto proprio all'angolo dell'albergo dove la sosta non è consentita. Sono stati multati dalla polizia locale tutti i mezzi in sosta selvaggia e invece sta riscontrando un buon successo il servizio di Adriabus al mare in navetta che con luglio è entrato a pieno regime quello per Sottomonte che riscuote il gradimento più alto. Letizia Francesconi ha interpellato il direttore di AMI Massimo Benedetti il quale cita numeri per la frequenza dei passeggeri che utilizzano questo servizio, si richiara molto soddisfatto soprattutto per la navetta per Sottomonte che ha una media di 80 fruitori giornalieri. Si rinnova invece l'invito a usufruire anche da navetta che fa spola dal campo di Marte a Baglia Flaminia al parcheggio scambiatore fra i due porti. Nel weekend c'è chi ha preparato anche volantini da porre sul cruscotto delle auto parcheggiate in Baglia per suggerire ai bagnanti di utilizzare la navetta piuttosto che intasare di auto e scooter uno spazio già altrimenti soffocato. Restiamo a Baglia Flaminia perché si parla di restyling, scelti i colori del bianco e del beige e il regolamento per la tutela e il decoro delle attività economiche di Baglia Flaminia è pronto per essere votato in Consiglio Comunale, se ne riparlerà comunque il prossimo marzo. I colori del bianco e del beige per il gazebo e i tendaggi sono stati prescelti. I gestori dei locali possono tirare comunque un sospiro di solievo, non dovranno rispetto alle iniziali preoccupazioni, sborsare chissà cosa per adeguarsi alle regole del decoro, dovranno soltanto adeguarsi ai colori del beige e del bianco per ombrelloni, teli, gazebo e altri elementi divisori tra un chiosco e l'altro. Sarà invece compito del comune di Aspes provvedere ad un restyling sul fronte degli arredi. Nella zona di Ponente notte in sonne, nuove segnalazioni per il rumore, non è una novità, ne stiamo parlando non dico quotidianamente ma quasi. Sabato sera è stato Marco Urbinati dell'hotel N1 a chiamare il 112 per la musica che arrivava dai locali troppo forte, dopo la mezzanotte il volume dovrebbe abbassarsi ma nessuno lo fa. È intervenuto nuovamente anche Paolo Campagnoli dell'hotel Mare, un gruppo di giovani rimasto in strada vicino all'albergo dalle tre e mezza alle quattro e mezza a schiamazzare come fosse pieno giorno. Intervenuto anche Enzo Belloni, l'assessore, i controlli si fanno, le poltuglie vigilano ma nessun intervento degno di nuota o fuori luogo sul lungomare. Cercheremo di capire nei prossimi giorni effettivamente chi ha ragione. Senza salvagente rischia di affogare, giovane lo afferra e lo porta in salvo. Vediamo come è successo ieri nella spiaggia libera di Sottomonte. Si tratta di un straniero, un uomo di 60 anni, il quale ha avuto difficoltà dove non toccava, stava annaspando, rischiando di annegare dopo aver perso il salvagente. Si è lanciato in mare il 24enne fanese Emanuele Lorenzetti che è riuscito a portarlo a riva mentre sopraggiungeva il moscone del bagnino. Il tutto mentre l'affollatissima spiaggia seguiva con apprensione il salvataggio. È stato complesso l'operazione perché era una persona robusta. Alla fine l'ho afferrato e abbracciato e l'ho portato con me verso la riva finché non ci è venuto incontro il bagnino. Per fortuna tutto si è risolto al meglio e quindi complimenti e grazie a Emanuele Lorenzetti che è stato prontissimo nel salvare la vita al signore di 60 anni. Acquedotto senza pace, nuova rottura, poi la doccia a casa, casa dei nostri genitori. Vediamo cosa è successo. Praticamente si è rotto per due volte di seguito l'acquedotto cittadino, questo lo sappiamo. Ieri mattina Villa San Martino è rimasta per la seconda volta a secco dopo l'emergenza di sabato che aveva già bloccato i rubinetti di mezza città. Oltre a Villa San Martino anche alla Tombaccia, Soria e Santa Maria delle Fabrecce. Alle 22.30 nuovo incubo, si è spaccata una seconda tubazione, tutto il quartiere in emergenza idrica. La rottura si è verificata nella rete di via Pergolesi attorno alle 22.30. Poi potete immaginare tutto il tantam che si è susseguito sui social, lo abbiamo seguito anche noi in diretta ieri mattina. Le cause delle rotture sono molteplici, il materiale è ormai usurato, lo squilibrio della pressione idica anche tra gli alti consumi del giorno, la diminuzione notturna, quando è più utilizzata naturalmente l'acqua, si verificano degli scompensi di pressione che provocano spaccature. Il terreno si dissecca, crea dei movimenti nel suolo che incidono sulla stabilità della rete che può danneggiarsi, soprattutto in zone argillose come le nostre. Il fenomeno è assai diffuso. Altra causa delle rotture sono le scariche elettriche attirate dai tubi in ferro di vecchio tipo senza la protezione catodica, quindi veramente urgono interventi per ripristinare la nostra rete idrica. Intanto la polizia scopre un dormitorio clandestino che viene sgomberato in centro storico, stiamo parlando di via Montegrappa, è intervenuta la polizia, all'interno immigrati ma niente droga, ieri due equipaggi della volante sono intervenuti a seguito dell'ennesima segnalazione. Sono stati identificati un marocchino, detentore non si sa quale titolo del locale, due gambiani clandestini e irregolari, già espulsi e destinatari di ordine del questore a lasciare il territorio. Altri quattro marocchini irregolari sono stati identificati nelle vicinanze. Sono in corso accertamenti per verificare con i proprietari chi sia l'affittuario del locale che è moroso e nei cui confronti è in procinto di esecuzione una procedura civile di liberazione dell'immobile. Rifiuti, piano rivisto dopo la bocciatura ma non si allunga la vita delle discariche, i rifiuti speciali sostituiti da quelli urbani di altre province, così fra tre anni e mezzo sarà emergenza. Aguzzi voleva che i volumi fossero gestiti con parsimonia, poi c'è stata la mediazione politica. Nell'articolo di Lolenzo Furlani, che vi invito ad andare poi ad approfondire, viene raccontata tutta la vicenda con i conferimenti anche previsti dal 2024 fino al 2026 nelle discariche di Monte Schiantello e Ca' Asprete. Un'altra triste notizia, la scomparsa dopo quella di Suor Cleli, ha scomparso anche Brunello Bedosti, storico direttore dell'osservatorio Valerio. Aveva 91 anni e mezzo e scomparso sabato sera, forse a causa di un arresto cardiaco. Lo conoscevano tutti, il professor Bedosti, direttore dell'osservatorio Valerio, anche in pensione ha continuato a usare i suoi strumenti di precisione. La figlia Nicoletta ne parla ovviamente quasi a dire che viveva di pane e terremoti, era questo il suo segreto di longevità. Lo ricordiamo, direttore dal 71 del Valerio, nel 76, questo è importante ricordarlo, fece acquistare modernissimi sismografi provenienti dall'America che fece installare al seminario nuovo, grazie ai dati scambiati con Roma e un'altra città italiana e poteva identificare l'epicentro dei terremoti. E fu proprio un'ora prima del terribile terremoto del Friuli, 6 maggio del 76, che rese operative le moderne attrezzature comunicando i dati a Roma e in collaborazione con la protezione civile tranquillizzò i pesaresi. È stato anche direttore del Museo Scientifico, guidi sotto l'osservatorio, che vantava anche per la presenza di un tronco fossile di 3.900 anni fa. I funerali domani, 18 luglio alle 10, a Cristo Re. Questa sera un rosario, sempre nella stessa chiesa. Cronaca di Urbino, San Bernardino e Pieve di Cagna, piano per riqualificare i cimiteri, ne avevamo già parlato sabato, dopo le segnalazioni di Urbino Servizi per infiltrazioni e deterioramento, ma anche i proprietari di Luoculi dovranno partecipare alle spese di sistemazione. A Urbani, a cortocircuito all'origine del rogo di auto, venerdì sera è andata distrutta una Kia e altre due auto danneggiate nelle parcheggiate nella vicinanza, attimi di preoccupazione, fortunatamente non si sono registrati feriti. E veniamo all'affano dei Ceseri, sono le 7.47, dedichiamo il giusto spazio e tempo a una delle manifestazioni più apprezzate e frequentate di Fano, emozioni e spettacolo. Ieri al Pincio, dove si sono svolte appunto, e abbiamo visto prima, dalla webcam, sia la grande parata delle fazioni, con quest'anno hanno partecipato poco meno di 2.000 cittadini e soprattutto la corsa delle bighe. Il circuito ha fatto il pieno, venduti tutti i biglietti dei posti disponibili, pieni 538 posti a sedere, c'era anche Acquaroli insieme ai consiglieri Ferser, Filippi e Ruggeri. Veniamo al racconto della sfilata, ha iniziato il lupo in rappresentanza dei centri della Valle dell'Arzilla, che hanno rappresentato i Saturnalia, la festa dedicata al Dio Saturno, un po' come il nostro Carnevale, in cui era consentito un momentaneo scambio tra servi e padroni. Poi è arrivato il Delfino, portacolori dei quartieri del centro e del mare, che ha inscenato le Veneralia, le feste dedicate a Venere, giovani e matrone da splendidi costumi nell'atto di offrire fiori. Poi la fazione della Volpe, ovvero i quartieri a sud del fiume Metauro, che hanno interpretato i baccanali in onore del Dio Bacco, festa in cui era permesso eccedere nelle libazioni ed altri eccessi. Ha chiuso il cinghiale per i centri della famiglia, rievocando il mito di Cerere, di Plutone e di Proserpina, con la sua discesa agli inferi e la possibilità, grazie alle preghiere di la madre, di ritornare sulla terra per sei mesi, dando vita alle stagioni. La competizione tra le fazioni è stata vinta dal Delfino, che ha vinto anche la Corsa delle Bighe, come ricordavamo prima, leggendo il resto del Carlino. Tanti gruppi storici, provenienti da diverse località italiane, Roma, Milano, Torino, Modena, Cesena, con in testa i legionari della colonia Iulea Fanestris e gli opliti greci di Simmachia e Lennon. Al suono delle chiarine è apparso anche il sindaco Massimo Seri, vestito da Cesare Augusto, fiancheggiato dai vice sindaco fanesi e dall'assessore Etienne Lucarelli. Per cinque giorni un salto indietro a Fanum Fortune, questo è il bilancio, ricostruiti gli ambienti, le attività dell'epoca, cinque giorni di full immersion nell'epoca romana per rivivere anche i fasti dell'antica Fanum Fortune che recentemente sono saliti alla ribalta anche grazie alle nuove indagini archeologiche con il ritrovamento della presunta basilica di Vitruvio. Di grande effetto scenografico la ricostruzione delle battaglie tra manipoli romani, opliti greci, barbari, rivoltosi, combattimenti gladiatori anche tra agguerrite e amazzoni. Il pubblico è stato riportato indietro di duemila anni alternando momenti di natura didattica per giovani e adulti al fine di apprendere usi e costumi degli antichi romani. Veniamo brevemente prima di passare alle pagine sportive, la cronaca di Cattolica Gabice, ci fermiamo a Gabice, nasce il circolo di Fratelli d'Italia alla porta nord delle Marche, l'obiettivo sono le amministrative 2024 puntando anche a Tavullia e Gradara. Parla il Olmeda, consigliere comunale dei Fratelli d'Italia, è tempo che Gabice abbia una sede fisica e raccolga le tante istanze del territorio. Le amministrative del 2024 vedranno a Gabice un centrodestra unito e coordinato. Da noi parte l'opportunità di unire le forze che da decenni sono relegate ai margini da una politica accentatrice. Questo circolo è l'unico autorizzato a usare il nome del partito e si propone come traino di un centrodestra unito. Veniamo nella foto anche chi era presente ieri insieme al consigliere Oscar Olmeda, riconosciamo Nicola Baiocchi, il consigliere regionale e poi il consigliere provinciale Domenico Carbone, il commissario Giorgio Mocchi, il consigliere comunale di Pesaro Daniele Malandrino e Graziano Vaccaro del coordinamento di Pesaro. 7.52, veniamo allo sport, brevemente la vispesaro blinda di Paola, tre anni di contratto, il forte centrocampista si è legato alla vis fino al 26, un tassello importante per la squadra di banchieri, qui lo vediamo nella foto insieme a Michele Menga, responsabile dell'area tecnica. Quali sono i programmi della vispesaro? Per ora allenamenti in città con i 25 elementi del nucleo originario, poi sabato lo spostamento in Trentino a San Lorenzo d'Orsino, un comune alle pendici delle Dolomiti del Brenta, dove i biancorossi rimarranno un'intera settimana. Domenica 23, subito un test dal momento che a Temù è stata organizzata una michevole, niente meno che contro il Monza di Palladino. Quindi squadra di Serie A, subito un bel test per la nostra vis. A Fano invece l'Alma Juventus gioca sulle carte bollate, il destino dell'Alma si gioca burocraticamente, la società continua a lavorare per il tentare, il ripescaggio in Serie C si apre una settimana cruciale. Oltre ai tanti soldi da investire sarà fondamentale che lo stadio Mancini sia a posto, quindi ci auguriamo anche che l'Alma Juventus possa raggiungere appunto la vis in Serie C grazie al ripescaggio. Novità anche in casa WL, in arrivo Bamford, un giocatore statunitense, sarà la nuova guardia della Carpegna Prosciutto per la stagione 23-24. Ormai abbiamo visto come quasi giornalmente lo staff tecnico composto appunto da Cioppi e Magnifico, ci stanno regalando nuovi giocatori, il roster si sta costruendo diligentemente. Benford è una vecchia conoscenza italiana, nel 2017-2019 è stato protagonista con il Banco di Sardegna, Sassari. Era questa l'ultima notizia per oggi, vediamo il palinsesto di Rossini TV per la giornata, si comincia alle 15 con la replica di Vaghe Stelle dell'Orsa, incontri poetici e musicali a cura di Laura Corraducci, la serata di mercoledì 12 luglio viene riproposta appunto oggi pomeriggio. Poi abbiamo il Green Tour a Isola del Piano, mercoledì è una replica come vedete e il regista me l'ha tolta adesso la diapositiva, quindi andiamo avanti con Rossini News, l'informazione che torna questa sera alle 19.30 in diretta Facebook, con la replica alle 20.30, alle 23.30, a mezzanotte e mezza e domani alle 6.30 e alle 13.30. Chiudiamo nuovamente con, ecco, è questo il cartello giusto, grazie Andrea, il Green Tour a Isola del Piano, questa sera in prime time, ovvero alle 21.20, lo ricordo che sono le repliche del riuscitissimo e fortunatissimo programma di Nicoletta Tagliabracci, in replica poi giovedì alle 15.30 e chiude domenica alle 12.00, quindi questa sera tutti a Isola del Piano. Rivediamo la webcam Andrea con il pincio di Fano, come dicevamo, ieri protagonista della Fano dei Cesari, mi sembra che gli operatori ecologici abbiano rimesso tutto a posto e sia nuovamente usufruibile da turisti e cittadini. Non mi resta che salutarvi, l'appuntamento, come dicevo, con l'informazione è questa sera, invece buongiorno Rossini, torna con i colleghi domattina alle 7.20, mi raccomando, come sempre, non cambiate canale.